Si chiama Ali Somboli, aveva appena 18 anni, è lui l'autore della strage di Monaco. Nato e cresciuto in Baviera, ma di origini iraniane, viveva con i genitori nel quartiere di Max Vostrad. Suo padre è un tassista e la madre dipendente di una catena di grandi magazzini. Sconosciuto alla polizia, al momento si ritiene che il giovane abbia agito da solo. La casa è stata comunque perquisita in cerca di eventuali collegamenti con qualche organizzazione. La Bild riporta la testimonianza di un vicino, amico di un suo compagno di classe. Mi ha detto che era un tipo tranquillo, ha dichiarato. Ciò che racconta di più del giovane e delle sue motivazioni è questo video, girato da un coraggioso residente appostato su un balcone. L'uomo che parla in turco lo insulta e il ragazzo risponde A causa tua, intendendo probabilmente quelli come te, sono stato vittima di bullismo per sette anni e ora ho comprato una pistola per spararvi. La tua testa non è a posto, dice l'uomo. Maledetti i turchi, replica il ragazzo. Maledetti stranieri, commenta l'uomo che nel frattempo allerta altre persone. Ehi, ha una pistola carica, chiama la polizia. Il killer, io sono tedesco. L'uomo continua ad insultarlo, mentre il ragazzo gli intima di smettere di filmare. Ma il giovane ci tiene a precisare. Sì, io sono nato qui, cresciuto nell'area Arts 4. Il riferimento è ad una zona popolata da destinatari di sussidi sociali. Il giovane dice ancora qualcosa a proposito di un trattamento, ma non è chiaro se intende di tipo medico. L'uomo replica, sì, un trattamento è ciò che ti serve. I due continuano ad insultarsi. Poi il giovane comincia a sparare.